Nella testa di Conte in questo momento è il buio più totale, nella testa di altri come lui tuttora c'è un buio totale, mentre nella testa della Stein c'è una luce neutrale. Ah 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 ah, avete capito un po' il trend di questo video? Com'è? Non è mica tragico, figa, non è morto, sta bene, ecco, già lo so tanto in web com'è, no, rispetto a avanti il peggio, c'è veramente della gente che si augura che gli sia successo qualcosa di veramente grave, ma siete dei poveretti, ok? Se veramente augurate il peggio possibile a questa persona, ha avuto il suo tempo. Matteo Ressi sa che ha avuto il suo tempo, perciò se vuole tornare un po' sui suoi passi, nel PD, va là, sa perfettamente che ci sono dei veti. Sa perfettamente sta cosa. Perché? Sarebbe avanti cinque anni di lavoro al Parlamento, di quattrini assicurati. Perché da solo puoi entrare al Parlamento se sei sotto del 3%. E, soprattutto, altra cosa, se si coalizza la cosa più importante, basta l'1%. A bestia a voi, in alto insieme per i 100.000 iscritti. A bestia sempre. Attivate sotto la camparella per odio di aggioramento di cuore. Vi ringrazio. Toc toc. Ehi, Matteo Ressi. È una tragedia. È gravissimo. Vice Conte. Perché ha dichiarato Ressi in diretta a TV. La notizia è stata riportata qualche ora fa esattamente da lui medesimo. O io alla session ho un accordo. O comunque c'è quest'accordo, quindi a posto, so, navighiamo tranquilli. Al momento ognuno per sé, però, insomma, c'è l'accordo tra noi. È gravissimo, dice Conte. Il Movimento 5 Stelle in generale è grave. A.V.S. Mamma mia, che cosa sta succedendo? Speriamo che non sia vero quello che ha dichiarato Ressi. Un dramma. Unda, chissà qual accordo sia. Cioè, entri con noi. Quando sarà il momento, il 2027, va là e ti ficchi nella coalizione. Ti basta l'1%. Va là, ribadisco. Vamo là. Eh. Non doveva fare quest'annuncio. Ressi non lo doveva fare. Anche perché lui ormai non ha niente da perdere. Lui uscilla tra l'1.8, 2, se proprio lì va bene, 2.5 barra 3%. Certo che comunque Conte, secondo me, che la vede come un dramma, una tragedia. O è rancore, o è gelosia, invidia. Altrimenti io non saprei che cosa più pensare. Sono due megalomani, due gali in un pollaio. Ma vedete chi può vincere questa battaglia? Dimmi la vostra nei commenti. Che accordo sarà secondo voi?